Il gongo sulla sessione estiva di mercato è arrivato lo scorso primo settembre, ma resta aperta la parentesi svincolati. Diverse le società interessate ad alcuni elementi attualmente liberi. Tra questi la Juve Sabia di Walter Alfredo Novellino, che dopo l'infortunio di Umberto Eusepi, arrivato appunto contro Ravino sabato sera, annuncerà a breve felice evacuo. Si sono inseguiti per anni, ma il matrimonio potrebbe essere celebrato solo in queste ore. Lo scorso anno al Catanzaro, l'attaccante originario di Torre del Greco, potrebbe essere un elemento di esperienza a 39 anni, da avere in rosa l'occorrenza, in grado di garantire un congruo bottino di redi e di giusto apporto alla squadra di Novellino, senza però rischiare di creare dualismi nello spogliatoio con Eusepi. Si va sempre più vicino il ritorno di Oliver Klager a Foggia. Svincolandosi dal Benevento nel corso dell'ultimo giorno di calcio e mercato, il centrocampista di Nazionale Tadiesca è pronto a tornare nei rossoneri di Puglia, squadra in cui ha raccolto forse le migliori soddisfazioni in Italia. La Vibonese vorrebbe regalare al mister D'Agostino un difensore esperto. Il club rosso-blu ha messo nel mirino Matteo Legittimo. Il classe 1989 è attualmente svincolato dopo l'avventura al Cosenza. Negli scorsi metri sembrava vicino al Catanzaro, trattativa poi sfumata. Attualmente fuori lista, il Catanzaro potrebbe valutare il reintego di Devis Curiale. L'attaccante è stato escluso dalla Rosa dopo aver rifiutato il trasferimento alla Fidelisandria che aveva proposto un contratto biennale nelle ultime ore di mercato.